Saranno 24 le immagini esposte all'auditorium dei poveri chiesa di San Giovenale in via Garibaldi a Rieti nella mostra Immagini, eventi della nostra città nel 2014 che sarà inaugurata sabato 31 gennaio alle ore 17. Organizzatore dell'esposizione il circolo fotografico reatino Fausto Porfiri BFI che attraverso gli scatti dei suoi soci da 47 anni fissa nel tempo momenti di vita vissuta della città sabina. La collettiva fotografica patrocinata dal comune di Rieti e dalla FIAF sarà un'occasione per ripercorrere in un immaginario percorso tutti gli avvenimenti che hanno visto Rieti, palcoscenico di notevoli eventi come Rieti Danza Festival, il Giro d'Italia, il RIC e eventi teatrali di importanza nazionale ed internazionale. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 31 gennaio al 7 febbraio dalle 17 alle 20.